L'esigenza di ESA-OTE è stata coperta fondamentalmente dalla soluzione SAP ME o NANA. Della soluzione alcuni fattori salienti. La soluzione ME in sé per sé garantisce la copertura della parte di shop floor control, dei processi di qualità e dell'integrazione con la parte ERP. La soluzione MII che è una componente all'interno del pacchetto ME garantisce una copertura di tutti gli analytics di fabbrica e una user experience sicuramente più adeguata per gli operatori che lavorano in fabbrica. Le esigenze di ESA-OTE sono state quelle di creare un processo di automatizzazione dei processi produttivi industriali presso i siti produttivi di Firenze, Genova e Maastricht. Tale esigenza nasce dal fatto che ESA-OTE è sempre alla ricerca di migliorare le proprie attività interne rendendo al massimo la visibilità e digitalizzando quanto più possibile le informazioni per fruirle a tutto il personale di produzione. I benefici che ha ottenuto ESA-OTE da questa soluzione implementata sono stati quelli di ridurre sicuramente i tempi di produzione, rendere più automatico il processo di apprendimento da parte del personale di tutti le esecuzioni dei processi operativi che andavano incontro e dare visibilità di tutta la base di informazioni a tutto il management e creare degli indicatori di performances target da raggiungere durante l'aspetto di processo produttivo delle sonde a Firenze. Grazie a tutti!